Pensavano fosse arrivata in ospedale per partorire, invece quella ragazzina di 16 anni andava operata subito per una cisti ovarica grande tanto da rendere il suo ventre simile a quello di una donna al nono mese di gestazione. Un successo l'intervento realizzato prima di Natale dall'equip guidata dal dottore Elisiario Struzzierio che ha consentito alla giovanissima ragazza di tornare a casa in poche ore. La fertilità della giovanissima non è stata intaccata e per fortuna era soltanto una cisti ovarica e non un tumore ma c'è voluta comunque tutta l'elevata competenza clinica e chirurgica dell'equip di Struzziero per risolvere il caso. Perché si è trattato di una cisti enorme composta da una massa liquida di circa 13 litri, dimensioni che si riscontrano raramente in un soggetto così giovane. Mi chiamarono i colleghi in pronto soccorso per vedere questa ragazzina e io quando andai dissi ma la ragazzina deve partorire e quindi dobbiamo parlare con i genitori. Poi nel visitarla abbiamo visto che aveva una cisti ovarica che era delle dimensioni di un utero gravido a termine quindi raggiungeva allo sterno un addome proprio di una donna a termine di gravidanza in prossimità del parto. Per cui l'abbiamo ricoverata e l'abbiamo trattata in laparoscopia. La cosa bella è proprio questo qua che siamo riusciti a fare un intervento che forse in pochissimi altri posti sarebbero riusciti a fare senza aprire la donna perché quel tipo di patologia richiedeva un taglio che andava quasi dallo sterno fino al pub. Le abbiamo aspirato alla fine circa 13 litri di liquido del contenuto di una cisti e abbiamo fatto chiaramente l'annessectomia e poi per fortuna dall'esame istologico estemporaneo è venuto fuori i nazisti in Benigna e quindi si è concluso in maniera brillante soprattutto per lei perché poi il giorno dopo la ragazzina è andata a casa e è stata dimessa in perfetto benessere. Grazie 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 Grazie